Dopo registrazioni, benvenuti a tutti i canali di ChefTronkyCin, siamo anche in diretta dal vivo sul canale, se mi seguite direttamente sul canale Benvenuti perché oggi, dopo tanto tempo, siamo tornati per andare a completare, che andiamo a salutare Caniguerriero E qui intanto mi scrivono anche su OneMessenger, ma cerchiamo di toglierli E niente, qui ho fatto la doppia ripresa perché non si sa mai che Maria le chiamate, non so E vi dicevo che per andare a completare la playlist dei 50 sponditori di Carbonara, oggi siamo tornati che andando a curiosare E mancava la ricetta con le mezze maniche a Carbonara E siamo qui seguiti per la ricetta e faremo anche la degustazione insieme, sempre accompagnato da Rotti E in live Intanto andiamo a fare la ricetta Siamo in tenuta oggi Andiamo a riempire dell'acqua, semplice acqua Acqua dal rubinetto E oggi facciamo tipo sgarro perché alla fine Andremo a mangiare un 8,5 La mia porzione è un 8,20 Massimo Dato in Carbonara oggi abbiamo fatto anche un po' di movimento e ci concediamo questo sgarro Per andare a menucidare la cottura dell'acqua andiamo a mettere il coperchio Come potete vedere Andiamo un po' Possiamo cambiare prospettiva, ok? Dopo dal vivo Veniamo al dunque Allora, la ricetta La ricetta, la Carbonara Ormai sono un must Però andiamo a rispolverarlo Allora, quello che ci serve è l'acqua Che non va neanche a salare Vabbè, quello è Il guanciale, questo è già stato tagliato, sminuzzato E porzionato Che lo andiamo a soffriggere Nella padella Ragazzi, vi vado a dire che Il guanciale Già tagliato agli starelli Come potete vedere qua Faccio vedere Saltiamo Kenny Guerriero Ancheci Guarda Saltiamo Anche Daniele Daniele Qui la porzione è misera A tempi d'oro Però Ci accontentiamo Questo è un guanciale Marchigiano E rigorosamente ragazzi Il guanciale Non pancetta Cosa che facevo io all'inizio del video Con la pancetta Ma questo È un sunto E penso di farla direttamente Con la cremina dentro Non da mescolare dopo Quindi Andiamo a far soffriggere Perché con il grasso che Rilascia Il guanciale Andiamo proprio a dire Questa volta Le mezze maniche Andiamo a pesarle E dopo andiamo subito a fare Il pastino Vediamo le mezze maniche Possiamo anche spostare La camera Della diretta Qua Ma perché c'è un discorso di zoom Qua secondo me Permane troppo vicino Vediamo se un po' Salto Di Sette il microfono Qui Ecco Già Riesce meglio Io vi faccio vedere Intanto come sfregola il tutto Ma noi ci perdiamo in chiacchi Se andiamo a pesare Le mezze maniche Che come vi dicevo Dove non farne E' da aprire E lo apriamo Noi Qui mettiamo Oh Jammer Camper Jammer Sto facciamo Il buon Camper Jammer Quindi chiedete Andiamo a pesare Direttamente E mentre che Sentite le vostre spalle Come si fregola Come vi ho detto Un S50 Che Oti Ragazzi C'è Nel S50 Quattro Ma si La stanza Quattro Allora La pesata L'abbiamo fatta Tanto abbiamo Il senso Che stessi Abbattiamo un po' Poi Perché La pesa Sfregolare Tende Quattro Andiamo a chiudere La nostra pasta E andiamo a mettere Su Fine La nostra porzione L'abbiamo fatta Si rilascio E mezzo Si rilascio Si rilascio E mezzo Fai vedere Come sta Rosolando Già E si Mi rilascio Qua Non so Se non avrei La bella Pugliazione Dopo Si riflette Va bene Perché non si funziona Qui la andiamo A appoggiare Qua la pasta Vediamo Se cuoce Qui Cuoce tutto Il freddo Non è come gli spaghetti Perché con gli spaghetti Ci ruolo a più tempo Da più tempo Per farlo L'acqua Per il dolore Invece con un padellino Così Già Ne auguro a bene Quindi Facciamo un bel Rosolare Rosolare Faccio anche Ligrare E aiuto Con questo Il strumento Che almeno Faccio Rosolare Tutte le parti Con il padellino Sguanciare Che in buona quantità Sicuro è un pasto Abbastanza Completo E anche un po' Grasso Chilo Grasso Diciamo E adesso Andiamo a fare L'impasto Allora Tutto il tempo Che vediamo Andiamo A fare l'impasto Per fare la cremina La cremina Ci servono Le uova Le andiamo a prendere Le uova Romaggio Pepe Non ci andrebbe messo Neanche Il poproncino Quello che era Ma adesso Lo faccio vedere Abbiamo le uova Vi avvicino qua E non so dove posizionarvi Per farvi vedere Forse così Ok Così Va bene Mi vedete Non mi vedete Comunque sono qua Vogliamo avvicinare La camera Da qua Per farvi vedere Come funziona Che tanto qui Ormai Aspetta eh Vi piego qua Perché dico Ormai tanto Vi stacco Per farvi vedere Come è L'arrosolatura Del panciale Ormai è a buon punto Si può anche spegnere Infatti lo andiamo a spegnere Dopo che sono Vi è bruciato Qui l'acqua Quasi in ebollizione No E' già in ebollizione Io l'acqua Il sale Non ce lo metto E facendo in diretta Che scolia Buttiamo giù la pasta Qui i fili Andiamo a buttare il nostro Sette e mezzo Di mezze maniche E i minuti Se non sbaglio Vediamo 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 Sono 14 minuti Che mettiamo come timer Mentre mi manchiamo anche 15 Scherzi perché Mantiene la cottura Qui andiamo a fare La nostra Brava cremina Potrei farlo Con la frusta Che c'ha tutti i strumenti Però lo facciamo In una vecchia maniera E il segreto Ragazzi Come ben sapete Tutte le ricette E soprattutto La carbonara E' L'acqua di cottura Ad aggiungere Nell'impasto Quindi andiamo a prendere Un bel bicchiere Io uso un bicchiere così Tra l'altro Poi metterci il bianco Perché Dei rossi Vanno presi Un rosso O un uomo di terra O l'altro solo Il rosso Vediamo se riusciamo Senza fare danni A fare il giocarello Qui prendiamo Solo il rosso Eccolo qua Basta fare un gioco Di prestigio così E il rosso L'abbiamo rimediato E quell'altro Invece lo mettiamo Proprio intero Senza Mezze misure E via Il gioco qui è fatto Il bianco pieno Lo mettiamo qua Che lo ricomponeremo Lo buttiamo via Così Inagiamo Vediamo Quindi l'impasto Da lì Va aggiunto Sapore di regia Anche il pepe Dove è andato il pepe? Qua cuce Aggiungi anche Il peperoncino Serve da aggiungerci Un po' Qui abbiamo il pepe Allora si aggiunge Prendiamo anche Un'altra forchetta Giusto per Che abbassiamo Un po' l'acqua Per girarlo Un po' Vi vedete il favore di camera Qua? Se provi più a zoomare Per vedere Il favore di camera Eccolo qua Composto C'è l'acqua Andata 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 Calda Quindi faccio vedere Qui Fa messi Pepe Che poi lo vado Aggiungere anche A tavola Abbondante pepe Ragazzi Perché a me Piace Lo lasciamo anche In tavola Ragazzi Per dopo Quindi Io ho utilizzato Nel tempo Prima usavo le buste Un bel formaggio Ragazzi Un parmigiano Reggiano No Un parmigiano Reggiano Sì Un parmigiano Reggiano Ragazzi Un parmigiano 30 mesi Ho detto 30 mesi 30 mesi Tanti mesi 30 30 Ecco Quindi lo andiamo A mettere Il nostro Bruciatore Andiamo a prendere I tocchi migliori Questo e questo E lo andiamo A grattugiare Volevo farlo A favore di camera Ma Non è che si può fare tutto Quindi abbondante Il formaggio Viene grattugiato Senza fare Da Io lo devo appoggiare Ma lì c'è La forchetta di mezzo Comunque Così Così riesce meglio Così riesce proprio bene Perché Non esce niente Bisogna abbondare Ragazzi Per fare una bella cremina Non siate timidi Ci andrebbe Il famoso pecorino Ragazzi Ma ahimè Oggi Si può Vedere tutto Ho preso il formaggio Parmigiano 30 mesi Che Va bene uguale Ce lo teniamo Per un po' Per dopo Perché Come sapete Io vado a mangiare Dietman Anche da una padella Vediamo se Rirrabboccarlo Quindi Eccolo qua Ragazzi Il composto Che ve lo faccio vedere Va Vado a Fare la famosa Cremina Che viene Una bella Cremina Anzi Serve da Riabbondare Anche Un po' Di pepe Ma Vediamo dopo Qui intanto Lo sbattiamo Qui L'acqua Cuoce Il passaggio Lo faccio Sia a fuoco Spento Se non sbaglio E butto sulla cremina E mettiamo sulla pasta Farò un po' De grubio Quello che è Ma a me piace Con la cremina Proprio Vi dà un po' Fastidio Adesso Qualcosa Rimediato Ma Già tanto Che Vi mangio L'uovo Con la cremina Qui Rimettiamo Altro formaggio Quello si sa mai E' Eccolo qua Questo Ce lo teniamo L'altro dopo Quindi Torniamo a noi Ragazzi Ovvero Alla ricetta Vediamo se possiamo Alzare Della regia Torniamo Alla ricetta Qua Diamo una girata La pasta Vediamo Un po' Siamo tornati qua C'è pochi Potenti connessi Perché ragazzi Normalmente È ora È ora Di pranzo Adesso Però Se notiamo Crot Schombling Schombling Hi Hi Non so Da dove Il tempo Da me Fa caccare Daniele Perché Ve lo faccio Vedere subito Qui Non spiove Non piove Ma È dubbio Questo tempo Una bella Carbonara Ci Vi tira sul Il morale Quindi Non vi vorrei dare le spalle Ecco Siamo Una doppia ripresa Un po' strambo Qui il guanciale È a buon punto Aspettiamo Qua E Mentre che L'acqua La pasta Rilascia Nell'acqua Un po' Di Algo Di Andiamo Per Accendere Un po' L'aspiratore Fra dieci minuti Siamo Belli che pronti Quindi Possiamo Proietarci Verso Qua O non so Dove Spostarvi Max Mariola Max Mariola Lo senti Lei Segue Max Mariola Graziano Io Max Mariola L'avrei Sentito Non mi ricordo Per cos'era Forse Per le auto elettriche Se non mi sbaglio Sembra di sì Quindi Come vi dicevo Dobbiamo Di prendere La doppia ripresa Qua E là Se ci prendiamo Per poter parlare Così La Abbiamo legiate Torniamo qua A girare La nostra Tornina Allora Qui viene il doppio O lo facciamo Diretamente Diret di pentolo O prendiamo Una laschetta E ce lo spaniamo Diretamente Per fare Sarebbe da mettere Pure là Tipo Al cosci In padella Non mi voglio Dilettare Pintà Quindi ci sono 10 minuti Di stacco E Per farvi vedere Il terzo finale Magari Mi stacco E tra Tre minuti Mi riattacco Proprio nel punto finale Per la ricetta Dopo ci Gustiamo Il pasto Allora Eccoci ragazzi Mancano Pochi minuti Due tre minuti Alla futura Quindi andiamo A prendere il resto E ci andiamo A aggiungere Un po' di acqua Di cottura Non tanta Così penso Che posso bastare E per non farla Di tanto liquido Se non avete giunto Troppa Poi ci giudete Un po' di formaggio Così La cottura Si potrebbe pure Finire A fare di qua Però Io faccio Che si cuoce E dopo Con tutto Adare Quindi andiamo A rimestolare Il composto Quanto manca Poi Teniamo Anche a rieccendere La padella Per fargli Infine La cottura Di padella Soffio Poneasco Ecco Poi Posso letta Rie Un bel bicchiere Di vino Già stato Versato Quindi La cottura Manca poco Queste mezze Maniche Stanno Scendo E porto Lo zoom Direttamente qua Perché dopo Vi farò vedere Sentite come ha suonato Quindi vi faccio vedere Perché tanto può Mantenere la cottura Grazie Lo zoom Vi faccio vedere Qua Sulla padella La faccenda Che andiamo a fare Ha suonato ragazzi Qui la padella È abbastanza calda Qui la pasta Si scuola Posso anche Poi Scoliamo L'acqua Vedete Non ho Lo scuola Basta Un po' Di acqua Ce l'ho Anche Lasciata Perché Potrebbe Aiutare In cucina In cucina Regolare Qui la andiamo A rigirare Per far prendere l'olio Spero perché Il grasso del guantale Si amalgamato Le mezze maniche Il guanciale Sembra che è poco Ma Sendo Amalgamare Andiamo a spegnere Vittimamente Il 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 bene uguale, non è tutto top delle carbonare perché qui non è venuta frittata, però mi posso dire che è buona sempre uguale, faccio vedere, in fondo ha creato un tipo di frittata barra cremina, ma la faccio girare bene e passa la porra però non si è ok ragazzi andiamo a mangiare direttamente, dai è venuta la roba buona, due, qua eccola, butta via se ce ne fosse tutti i chef, uno chef, ecco qua, ci riprendiamo, ci riprendiamo